Sono Angel, eccomi qui proprio nel posto e faremo la serata di venerdì, venerdì 15, fiesta cubana e non solo, qui al Lido de Bissone come vedete, è un posto fantastico, si potrà fare il bagno gratuitamente in questa grande piscina, poi in fondo come vedete c'è una piscina anche per i bambini, l'entrata sarà gratuita, vi ricordo che come animazione ci sono lo Satrevido di Milano, Dani Giaser, c'è la Milena Ventre, una grande ballerina italiana e c'è una grande ballerina cubana che sarà con noi quella sera, in più sarà musica a 360 gradi in questo esplendido posto, con bello cattivo tempo comunque la serata si terrà, ecco Lido de Bissone, uscita Melide, venerdì, vi aspettiamo eh, dalle ore 18 fino a l'una del mattino, si può bagnare in piscina, se avete un pareo come questo, venite anche, ciao Angel